Maggior risparmio, più efficienza e luminosità. Queste sono solo alcune delle caratteristiche della nuova illuminazione pubblica sul lungomare di Sassognafano, dove sono iniziati i lavori di riqualificazione grazie a un investimento di Asespa di 130.000 euro. L'operazione, che verrà completata entro il 31 maggio prossimo, comprende 70 pali con 76 plafoniere e 280 lampade a LED che andranno a sostituire quelle esistenti, facendo abbassare i consumi di energia del 57%. Questo significa che ogni anno il costo scenderà da 9.000 euro a poco più di 4.000 e nel giro di 20 anni il Comune risparmierà più di 110.000 euro grazie alla nuova tecnologia apportata in zona Sassonia. I lavori però rientrano in un programma di interventi di illuminazione pubblica che nel tempo verranno eseguiti anche in altre zone della città, portando ulteriori benefici e risparmi che andranno ad incidere sulle casse comunali. Una operazione che noi abbiamo definito 1000 LED che ci consentirà oltre che fare questi investimenti anche un risparmio annuale di 86.000 euro sul bilancio del Comune di Fano. Questo ovviamente è una cosa molto importante, si risparmia, siamo più moderni, siamo più ecocompatibili e soprattutto siamo anche più belli, tra virgolette questa città ovviamente ne guadagnerà, soprattutto la passeggiata di Sassonia ne guadagnerà in bellezza perché ovviamente andremo a fare una sostituzione di circa un centinaio di pali che anche dal punto di vista estetico saranno gradevoli. Ovviamente questa cosa è stata fatta anche in accordo con l'architetto che allora progettò la passeggiata, Gianni Lamerica, che si è dimostrato molto disponibile e contento anche di questa situazione. I lavori lungo i 950 metri della passeggiata Giovanni Paolo II proseguiranno con transennamenti locali, senza interferire quindi sulla normale pedonabilità. Abbiamo cominciato l'altro anno con la pista ciclabile della Fano a Fosso Segliore, passiamo quest'anno alla passeggiata Sassonia e devo dire che il cambiamento è radicale, passiamo da una vapore di mercurio a una lampada LED, quindi facciamo anche green economy, in un certo senso diminuiamo le emissioni di CO2 ma valorizziamo una zona importante della città, ne seguirà anche il relamping del centro storico, gli ingressi turistici alla città come Cavalca Ferrovia e un parco storico come quello dei passeggi.